Questo weekend il WWF insieme con l'Associazione Nazionale Musei Scientifici organizza la seconda edizione di Biodiversamente, il festival dell'ecoscienza dedicato al mondo della ricerca scientifica sulla biodiversità. Il 22 e 23 ottobre saranno aperti laboratori interattivi e viaggi virtuali nel tempo e nello spazio sotto la guida di ricercatori ed appassionati. A Napoli in particolare l'appuntamento per il fine settimana tra Scienza e Natura sarà sabato a Città della Scienza all'Acquario della Stazione Zoologica e domenica nell'Oasi WWF del Cratere degli Astroni.